Dopo i numerosi litigi che il dottor Garbo e Gianluca Zua avevano avuto su Instagram e su TikTok Tanto che quest'ultimo aveva detto che il Garbo in realtà non era ricco come faceva sembrare Ma i video sull'Iyot li faceva perché lui era a pulire l'Iyot Gianluca era in diretta in piazza Duomo e il dottor Garbo l'ha raggiunto a sorpresa Interrompendo la diretta e facendo quello che vedete nel titolo Non aggiungo altro, vi lascio filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video, linea lo studio Non lo devi toccare, non lo devi toccare, su, non lo devi toccare Parla, parla, vai a pulire la barca, vai a pulire la barca, vai a pulire la barca Non ti viene mai addosso, no? Dai no, dai no, hai capito? Hai capito? Se non lo devi toccare Non ti vuole zia, non ti devi avvicinare le garbo Ti dico, mantieni la distanza e non ti avvicinare Ti dico, mantieni la distanza e non ti avvicinare Ma chi è lui? Polizia, la polizia Ma che polizia? Non ti devi avvicinare, garbo Ti dico, mantieni la distanza e non ti avvicinare Ti dico, mantieni la distanza e non ti avvicinare Mantieni la distanza e non ti avvicinare Grazie